Stamattina per non radere un vecchio, ho caricato Photoshop sullo specchio Se c'è una cosa che so dell'arte, è che non deve servire agli artisti Sir Richard Branson a Marta su Marte, cerca soltanto un negozio di dischi Ma stai conoscio nei tuoi guai, che ho problemi di wifi Precipitare in questa stanza, è come scrivere il diario di un altro Tanto è crudele la distanza, fra il millimetro e l'anno luce Sei scesa nel mondo, adesso devi sognare grosso Precipitare in questa stanza, è come scrivere il diario di un altro E dai più lento alla distanza, fra il millimetro e l'anno luce Se dico il mondo è grigio, mi dici il mondo è blu Qualcuno ci direbbe cucurucucu Che io non posso andare dove vieni tu Non ti è concesso andare dove vieni tu Qualunque cosa tu abbia fatto farai Qualcuno è già Ho deciso da Marte, per dominare un cane e avere tanta pace da Precipitare in questa stanza, è come scrivere il diario di un altro Precipitare in questa stanza, è come scrivere il diario di un altro E tra il millimetro e l'anno luce Tra il millimetro e l'anno luce Tanto è crudele la distanza, che probabilmente Dio è una donna